La sicurezza nelle e delle scuole, nonostante tutto. Nonostante il Covid-19. Sebbene la pandemia non rallenti la corsa, il Comune non rinuncia agli interventi per le scuole e negli ultimi giorni si è capito che non sono pochi i lavori da effettuare. Ben presto, dunque, su richiesta del dirigente Camela Rosiello, verrà installata una centrale di allarme anti-intrusione nella scuola dell'infanzia di Via Spinelli, che fa capo proprio alla Cagliati. La spesa è di 3.500 euro. Non è tutto, ovviamente, perché verrà data assoluta priorità alle verifiche di vulnerabilità sismica. Ed ecco spiegati, quindi, 85.000 euro per il plesso Anna De Renzio in Via Bellinguer è di ben 100.000 euro per la scuola Papa Giovanni XXIII e proprio per il circolo Cagliati. E le stesse verifiche, con la stessa cifra, saranno fatte anche a Palazzo di Città.